Partecipa alle iniziative organizzate da chi rispetta e protegge il mare. I comuni, le associazioni, i cittadini stessi spesso organizzano manifestazioni e attività sul territorio. Ricordati, un vero supereroe difende sempre ciò che ama e dove vive. Inizia già a casa, avendo cura delle tue risorse, come rifiuti, acqua, elettricità e così via. E fa che tutti seguano il tuo esempio.